Ed ora focus sulla regione, lo facciamo in compagnia di Giovanni Porcelli, consigliere regionale del gruppo Campania Libera. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Dunque, focus sulla politica, sulla nostra regione Campania. Non possiamo non partire che dall'argomento pandemia, la pandemia che purtroppo oggi, il cui impatto restituisce un momento davvero molto difficile a causa della variante Omicron, sono ancora le vittime, sebbene l'Organizzazione Mondiale della Sanità auspica che Omicron possa rappresentare la fine della pandemia. Ce l'auguriamo anche noi, vivamente. Ovviamente è un auspicio, perché i dati scientifici che ciò accadrà purtroppo non li abbiamo. Però siamo abbastanza fiduciosi che possa accadere, sia un altro per l'alta contagiosità di questa variante e per la bassa aggressività, almeno per coloro che sono vaccinati. I dati scientifici dicono questo qua, anche perché il perdurare di questo stato di cose avrà un impatto socio-economico che al momento non riusciamo ad immaginare. Fortunatamente arriveranno le risorse del PNRR, ma che voglio ricordare a tutti coloro che ci ascoltano che sono dei debiti che l'Italia ha contratto per finanziare questa fase emergenziale, che poi i nostri figli, barra nostri nipoti, talmente che poi sono tanti, dovranno restituire, dovranno saldare. Quindi non ci trastudiamo troppo su queste risorse che arriveranno, perché sono risorse prese a debito e abbiamo l'onere e il dovere di spenderli in maniera scientifica e in maniera certosina per rilanciare il nostro paese. Su un binario dicotomico abbiamo l'impatto che la variante causa e va a demolire l'aspetto economico, ma soprattutto va a demolire l'aspetto sanitario e il nostro sistema sanitario continua a soffrire in maniera molto pesante. Quanto riuscirà, secondo lei, a reggere ancora? La Regione Campania sta monitorando la situazione. Qual è lo status quo? Reggiamo in totale emergenza, nel senso che i dati sono sotto questo aspetto confortanti ed era stato poi questo l'elemento che aveva fatto scattare una richiesta malinterpretata, poi bocciata, di tentare di evitare tutte le forme di possibili contatti e contagi fino almeno a fine gennaio, tipo quello di tenere due settimane i ragazzi più piccoli, quelli non ancora vaccinati a casa, proprio per allentare la pressione sul sistema sanitario. Se dovesse essere confermata l'ipotesi che pare sia scientificamente attenzionata, ovvero che la fase acuta in via di discesa sta calando, noi riusciamo ancora a reggere. Viceversa, se questa storia di continui ricoveri giornalieri dovesse continuare a persistere, non è tanto l'affrontare adesso il malato di Covid. Bene o male un'organizzazione ce la siamo dati qui in Campania, in Italia, nel mondo, perché poi il sistema sanitario mondiale è sotto pressione, ma è anche l'incapacità in questo momento a dare risposte agli altri ammalati. A me continuamente mi segnalano di difficoltà a potersi ricoverare, piuttosto che a poter fare esami diagnostici, piuttosto che poter avere un consulto ambulatoriale da uno specialista ed è questa la cosa più drammale. Noi per far fronte ad una situazione che avremmo potuto notevolmente... Si poteva fare qualcosa in più durante questi due anni, perché poi l'amirogenza... Si doveva fare qualcosa in più. La prima cosa è trovare misure coercitive per obbligare il più possibile persone a vaccinarsi. È impensabile che ci sono nella città di Napoli, che conta stento 900 mila abitanti, 870 mila abitanti, si segneranno ancora 200 mila persone vaccinabili non ancora vaccinate. Quindi voglio dire, questo è un dato vero, perché poi chi arriva in ospedale, arriva il 75enne, il 70enne, l'80enne, l'85enne vaccinato, ma con comorbità, con altre patologie e non vaccinati. Per cui tu avresti potuto allentare oggi su 1.400 ricoverati circa, ne avremmo 300, 350 ricoverati. Tutte persone anziane, fragili, e quindi anche assisterli meglio. Invece abbiamo più di 1.000 ricoverati, che sono persone che non hanno fatto il vaccino. Questo è il dato sul quale noi dobbiamo riflettere. Intanto le repercussioni, come diceva lei, impattanti sul versante economico. Lei tra l'altro originario dell'area nord di Napoli, un territorio molto particolare, vasto e popoloso, con tante questioni sul tavolo. Penso ad esempio alle questioni legate alla immigrazione, all'integrazione, ma anche al tema ambiente. Cosa bisogna fare per rilanciare comunque un territorio che conserva tantissime potenzialità, che ha tante potenzialità da esprimere? Innanzitutto, come dire, investire bene le risorse che arriveranno. Oro o me più. Questo vale per l'area nord di Napoli, vale per tutte le periferie, ma mi consenta di dire vale per l'intero meridione. Cioè noi dobbiamo utilizzare questo momento storico, così drammatico, per mettere su le migliori energie, fare il miglior lavoro possibile e finanziare quegli investimenti che serviranno a recuperare una parte del gap che abbiamo rispetto al nord Italia e al centro Europa. Se non facciamo questo, ovviamente abbiamo fallito clamorosamente. Quindi investimenti in infrastrutture, per esempio, parlando dell'area nord, immagino al nuovo ospedale di Giuliano, che sarà un ospedale che dovrà servire in utenza di diverse centinaia di migliaia di abitanti e che possa dare una sanità di eccellenza in quell'area così vasta e così popolosa. Posso immaginare finalmente la risoluzione delle ecoballe che possa ridare anche un aspetto di dignità ad un territorio martiorato. Ma, ahimè, infrastrutture rispetto a quelle che sono i trasporti, completare il circuito della metropolitana, quindi linea 1 con metro Campania Nord-Est, cioè fare quelle cose che consentono poi agli investitori di venire sul nostro territorio e riprodarlo, come dire, interessante sotto l'aspetto degli investimenti. I fondi del PNRR, quindi, ecco, noi possiamo riporere speranze sull'arrivo dei fondi del PNRR perché, ecco, dai punti, da lei, domenclati, poc'anzi, il lavoro resta il tema centrale. Noi dobbiamo, non possiamo, noi dobbiamo avere la speranza, noi dobbiamo lavorare affinché le risorse arrivino, ma per arrivare, cioè le risorse non ci saranno regalate, le risorse serviranno a finanziare dei progetti seri e credibili. Oggi sto facendo un lavoro anche con i sindaci, rispetto a quella che è l'infrastruttura delle scuole, rispetto a quelle che sono i servizi ai cittadini, come palestre, parchi, insomma, quelle cose che servono a migliorare la qualità della vita sui nostri territori. Solo migliorando la qualità della vita sui nostri territori e realizzando infrastrutture, e realizzando una sanità di eccellenza, di qualità, anche con un'edilizia sanitaria di qualità, noi realizzeremo un territorio che sia credibile sotto l'aspetto degli investimenti. Se non arrivano investimenti, certo, si sta facendo un lavoro interessante rispetto a quello che è lo svecchiamento e le assunzioni del pubblico impiego di centinaia, di migliaia di giovani professionisti per non farli scappare via, ma quello è un pezzo del lavoro. Il grosso dovranno fare gli imprenditori su di un territorio che deve diventare attrattivo, un'altra volta sotto l'aspetto degli investimenti. Tutto probabilmente sarà determinante anche da quello che accadrà in queste prossime ore, perché da oggi l'attenzione e la politica nazionale si sposta al Quirinale per le elezioni del nuovo presidente per la Repubblica e la prima chiama rischia di essere interlocutoria, no? Per rivedere e ricercare un nome che possa far convergere tutti i partiti politici. Mi lasci dire una cosa rapidissimamente. Noi ci auspichiamo che in futuro i cittadini possono maggiormente partecipare a questa scelta, ma se non altro perché, vedete, gli ultimi due presidenti della Repubblica sono stati due presidenti del Meridione, uno napoletano, appunto Giorgio Napolitano, e Sergio Martarella, palermitano, quindi siciliano. Per due mandate addirittura a Napolitano. Addirittura, per cui abbiamo due presidenti che se un'altra hanno avuto endemicamente, come si dice, come fatto anche affettivo, un'attenzione particolare alla Sud Italia. Ecco, votare un presidente della Repubblica, deciderlo in alcune istanze, senza un minimo di programma condiviso con i cittadini o con la classe dirigente del territorio, è una cosa che forse in questo momento storico dovremmo cominciare a rivedere. Detto ciò, noi ci auguriamo che sia una figura di altissimo spessore e che tenga unita la classe dirigente, e che si aggrede all'intera classe dirigente del territorio, non soltanto ai parlamentari, ai famosi grandi elettori. Perché se è un presidente autorevole che tiene su tutta la classe dirigente, ovviamente è uno stimolo affinché nei prossimi anni si possa fare bene per l'intero paese. Un presidente di parte, un presidente che non tiene a cuore l'intera nazione, significerebbe perdere un'altra occasione in questo momento storico, dove tutti dobbiamo fare un pezzo di strada per raggiungere l'obiettivo. Senta, però vorremmo anche una sua riflessione, perché secondo lei le sembra più probabile un miss di Mattarella, sebbene lo stesso abbia declinato e con rinnovo al mandato, oppure uno spostamento di Draghi da Chigi al Quirinale, o secondo lei un nome nuovo? C'è chi si sta parlando in queste ultime ore di casini? Sarebbero... Che sembra più probabile? Vedo più probabile la terza ipotesi. Vedo assolutamente improbabile la prima ipotesi, quindi un Mattarella bis. Non mi dispiacerebbe invece la seconda ipotesi. Draghi alla presidenza della Repubblica è un governo di fine legislatura con un nome di altissimo profilo. O un ministro del governo Draghi, c'è la Cartabbia, ci sono ministri autorevolissimi, o per esempio la stessa presidente del Senato, può essere un nome come presidente del Consiglio dei Ministri di fine legislatura. Cioè in questo momento ci si aspetta serietà dei grandi elettori. Ci si aspetta un comportamento non di parte, non partigiano, ma un comportamento che guardi agli interessi della nostra nazione. Gli interessi della nostra nazione ci impongono una scelta seria, condivisa, autorevole e spendibile all'esterno. Che noi debiti li abbiamo fatti con l'esterno. Ma ci riusciremo, perché ad oggi la situazione è molto incerta. Quindi le chiedo come si potrà sbloccare, secondo lei, questa situazione così incerta? Sono fiducioso del fatto che poi nei momenti più complicati, anche se in questo momento storico non abbiamo una classe dirigente, mettiamola così, inesperta, una classe dirigente che conosce i meccanismi della macchina, del governo dello Stato da poco tempo, per larga parte, sono fiducioso che poi chi decide su questa classe dirigente, chi indirizza questa classe dirigente, farà prevalere il buonsenso. Voglio essere un ottimista perché devo credere e dobbiamo credere che all'orizzonte si veda la fine del tunnel, si veda, come dire, una prospettiva di crescita per la nostra nazione. Per gli interessi del paese. Solo ed esclusivamente negli interessi della nostra nazione, della nostra bellissima regione e di questa nostra martoriata città che merita maggiore rispetto in campo nazionale ed internazionale. Grazie, grazie a Giovanni Porcelli, consigliere regionale del gruppo Campania Libera con il quale, per l'appunto, abbiamo fatto il focus sulla nostra regione e non solo, anche argomenti di politica nazionale. Grazie. Grazie a lei, grazie a voi che ci avete ascoltato. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Restate con noi con Mattina Live.